Ecco la sala operativa della Regione Marche allestita nell'Aula Verde di Palazzo Leopardi ad Ancona. Sarà un vero e proprio cuore pulsante di tutta l'organizzazione elettorale e raccoglierà i voti scrutinati dalle sezioni elettorali comunali che confluiranno nel capoluogo garantendo l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria. Ieri, per la prima volta, si è svolta la simulazione in collegamento con gli uffici elettorali comunali. I comuni hanno ricevuto un manuale tecnico con le istruzioni per procedere all'invio dei dati secondo le modalità e le sequenze richieste. Saranno 30 i dipendenti regionali che lavoreranno in questa sala suddivisi per circoscrizioni elettorale e attività di assistenza. La simulazione ha riguardato tutte le procedure di comunicazione ed elaborazione dei dati, comprese le procedure di emergenza da adottare nel caso di guasti o disguidi. Sono state anche predisposte squadre tecniche e operative sul territorio e un numero di emergenza. Altre simulazioni verranno poi ripetute nei prossimi giorni per assicurare il corretto svolgimento dello scrutinio elettorale. I tecnici, inoltre, stanno lavorando nell'allestimento di una sala stampa che rimarrà aperta ai giornalisti, sempre a Palazzo Leopardi, per consentire l'accesso ai dati degli scrutini e a tutte le informazioni in tempo reale, i tecnici sono al lavoro anche per l'allestimento di una sala stampa virtuale, con link dedicati ai dati elettorali sul sito della Regione Marche.